Sta, Viminos, orribilmente ringhia, e samina le colpe nell'intrata, giudica e manda se con chi avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuno al giudizio, dicono e odono, e poi soggiù volte. Oh, tu che vieni al doloroso spizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'altezza dell'intrata. Perché, pur gride, non impederlo suo fatale andare, volsi così colà dove si pote ciò che si vuole, e più non dimandare. Or comincian le dolenti note a farmisi sentire. Or so venuto, laddove molto pianto mi percuote. Io venni, in loco d'ogni luce muto, che muggia come far per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendoli molesta. Quando giuncon davanti alla ruina, qui vi le stride il compianto e il lamento, bestemmian qui vi la virtù divina. Intesi, c'ha così fatto tormento, enno dannati peccator carnali, che la ragion sottomettono al talento. Così, quel fiato, gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su, di mena, nulla speranza gli conforta mai, nonché di pena, ma di minor pena. Eccoci di fronte alla tempesta infernale. Questa tempesta è la punizione divina per le anime che hanno commesso peccati carnali. È il luogo dei lussuriosi. La colpa è questa. Hanno sottomesso la ragione al talento. Il termine talento ha un significato diverso rispetto a quello che oggi utilizzate voi. Nella mia lingua, il talento sono gli istinti. Voglio dire, quindi, che non hanno usato la ragione per frenare la loro passione carnale. Vedete la loro pena eterna? Sono sbattuti in su e in giù, di qua e di là da un vento impetuoso, incessante, eterno. E per loro non c'è possibilità di addolcimento della pena. E la legge del contrapasso, che ho creato proprio per loro, come in vita furono travolti dalle passioni carnali, adesso, per l'eternità, sono sbattuti da questa tempesta infernale. Perché io scrivo solo ora, nel quinto canto, che iniziano le dolenti note? Siamo già nell'inferno da un pezzo e abbiamo sentito, nell'anti-inferno, le orribili favelle. Perché ora i lamenti mi fanno male? Diamo una risposta, semplice, ma che ci introdurrà, nella chiave di volta, del nostro percorso sull'amore cortese. Cosa ci fa più male? Ciò che è più vicino alla nostra natura. Allora, forse siamo giunti nel luogo in cui io posso prendere coscienza del mio peccato personale. Andiamo avanti, perché fra poco parleremo con due anime lussuriose. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paion sia il vento esser leggeri.